Buonasera, benvenuti 8 e mezzo, buonasera, benvenuta Evelina Cristilan, presidente del Museo Egizio di Torino e membro del Consiglio della FIFA, buonasera Massimo Giannini, editorialista di Repubblica, buonasera Alessandro Gasman, attore e regista e buonasera Alessandro Giulie, presidente del Museo Maxi di Roma e buonasera Lucio Caracciolo, direttore di Limes e della Piano Mattei, è in corso tra l'altro adesso una conferenza stampa della presidente del Consiglio, mentre si apre un caso diplomatico con l'Ungheria di Orbán, subito dopo la pubblicità. Allora Massimo Giannini, oggi è stato il giorno del tanto annunciato piano Mattei di Giorgia Meloni con un vertice a Roma, con decine di capi di Stato, di governo africani presenti, Giorgia Meloni che anche adesso sta parlando in conferenza stampa, ma ha detto nel discorso finale, ha detto stamattina in apertura, insomma siamo davanti a un nuovo modello di cooperazione, si apre una pagina nuova, l'Italia stanzia per il momento 5 miliardi e mezzo, che per il budget dell'Italia è una cifra abbastanza consistente e diciamo che è una operazione di grande successo questo primo passo verso l'Africa di Meloni? Il piano Mattei in realtà è un po' il sacro graal della politica estera italiana che in realtà ha una valenza importante anche per la politica interna, io credo. Sacro graal perché l'abbiamo inseguito e ne sentiamo parlare da settimane, da mesi e abbiamo sempre un po' faticato a capire che cosa c'era dentro, anche adesso non è che sia poi così chiaro, nasce questo fondo affidato alla banca africana per lo sviluppo, al quale partecipa l'Italia insieme agli Emirati Arabi Uniti, stanziamo per ora 200 milioni, avvenire, cioè di qui ai prossimi 4 anni, 4 anni arriveremo ai 5 miliardi e mezzo grosso modo, per fare cosa? Ora l'idea di per sé non è sbagliata perché l'Italia è un gancio nel Mediterraneo tra l'Europa e il continente africano che se la guardiamo dal punto di vista economico è un mercato di 350 milioni di cittadini che stanno crescendo, sta diventando in parte il nuovo ceto medio del futuro, hanno bisogno di tantissimo, di tutte le infrastrutture possibili e immaginabili, io ho un solo dubbio in realtà e cioè che l'Italia per quanto sia ambizioso il piano dal punto di vista delle risorse, intanto li voglio vedere questi 5 miliardi e mezzo anche perché vengono presi dal fondo per l'ambiente, vengono dirottati da vari... Quindi il tuo dubbio è? Il mio dubbio è che appunto in realtà voglio vedere tutti questi soldi che arrivano in un paese che stenta a coprire le spese della sanità da un lato e dall'altro lato ho quindi il sospetto che invece noi facciamo un'altra operazione, stiamo tentando un'altra operazione al di là della propaganda, cioè diamo un po' di soldi ai paesi africani e in cambio gli chiediamo di non far partire più i migranti e questa se è così sarebbe non il piano Mattei ma il contropiano Calergi che è quello famoso che l'ultradestra ha sempre usato per spiegare la sostituzionetta, noi gli contrapponiamo il piano Mattei per bloccarla, ecco mi preoccuperei prima Lucio Caracciolo, è una vera pagina nuova, è un grande successo italiano, finora l'abbiamo sentito anche oggi, tanti annunci, tanti progetti, Renzi ha detto poco fa che è merito di Descalzi quello che è stato possibile annunciare oggi e Descalzi ricordiamo è il gran capo dell'ENI, ci dici di che cosa stiamo parlando concretamente? Perché siccome Fazzolari ha detto che la più grande rivoluzione, Giorgia Meloni ha ribaltato 200 anni di storia europea è così? Vabbè lasciamo stare l'understatement di Fazzolari, vediamo la sostanza e la sostanza non si vede nel senso che abbiamo una bella copertina perché comunque sia l'idea è corretta e l'Italia può dare un contributo effettivamente a tutto quello che permette di avvicinare l'Europa e l'Occidente in generale all'Africa, specialmente in una fase in cui in Africa cresce l'insofferenza non per il colonialismo di 200 anni fa o 150 ma per il postcolonialismo che è continuato con atteggiamenti predatori da parte di alcuni paesi europei, non il nostro in genere e che crea sempre più difficoltà per i paesi europei in Africa per esempio negli ultimi tempi la Francia. L'idea centrale credo che sia quella di costruire intanto la possibilità di una sorta di scalo energetico per l'Italia e mezzo al Mediterraneo con energia si presume rinnovabile e quindi una centralità geoenergetica dell'Italia nel Mediterraneo. E poi il retropensiero ovviamente è quello di aiutare lo sviluppo economico e sociale dell'Africa perché arrivi meno gente, il che però dovrebbe essere coordinato con un piano che permetta di raggiungere il nostro paese in modo regolare, ordinato e umano che è quello che manca. D'Alessandro Giulia, ci sono tantissime incognite su un piano così ambizioso. No, è l'inizio, è un inizio ed è un buon inizio. Oggi il presidente dell'Unione Africana, Musa Faki, quello vero non quello finto, ha detto che... Comunque contenti, sapendo che stiamo parlando di un continente complicato, variegato, 900 milioni di abitanti, paesi con governi diversissimi, eccetera, eccetera. In questo io non sono un eseggeta perfetto delle dichiarazioni del sottosegretario Fazzolari, ma si tratta di ribaltare uno schema di 200 anni di colonialismo predatorio che oggi vede la Russia di Putin all'avanguardia, insieme con la Cina e altri stati, diciamo non precisamente democratici, nella ricerca di terre rare in Africa con deportazioni di popolazione del sub-Sahara e addirittura ormai all'interno del quadrante del Sahel, come il professor Caraccio lo sa molto meglio di me. Sì, peccato che proprio per il passato colonialista, diciamo, l'Occidente in questo momento non è popolarissimo in tantissimi paesi europei. No, però non è popolarissima la Francia, se voi andate a vedere quello che la Francia chiede all'Italia da anni, essendo la Francia in ritirata strategica purtroppo dal Sahel soprattutto, la Francia con Keppel, con l'inviato di Macron, ha chiesto da tempo all'Italia un maggior ingaggio e vengo al punto, il punto secondo me è guardare il piano Mattei in una prospettiva euro-africana e non soltanto italiana, laddove risorse, strategie che parlano di istruzione, innovazione, agricoltura per biocarburanti, sanità, trasferimento tecnologico devono avere una dimensione continentale, cioè il pensiero funziona se si intende il Mediterraneo come il punto di congiunzione di un unico continente euro-africano. Certo, però anche lì ricordiamo che per il momento c'era la Presidente della Commissione von der Leyen, ma diciamo anche lì soldi quelli vecchi, quelli stanziati, quindi è una perché per continuare il combat bisogna avere i soldi e avere una prospettiva europea, però diciamo l'inizio è positivo se questi sono i presupposti. Inizio positivo, Evelina Cristi Lang, lei con il suo museo egizio ha rapporti con vari paesi africani, è giusto questo approccio? Sì, l'approccio è giusto, tra l'altro appunto vorrei sottolineare che noi da anni e magari anche con qualche polemica iniziale facciamo politiche comuni, politiche culturali comuni soprattutto con l'Egitto, ma non solo, anche con la Tunisia, con l'Algeria, col Marocco e quindi con diciamo paesi di lingua arabe, di cultura. Quello vi hanno attaccato, no? Sì, ma lasciamo perdere. Adesso tra l'altro, guardi, mi fa piacere dirlo perché proprio pochi giorni fa abbiamo fatto un accordo con quell'assessore che ci aveva criticati col Museo Egizio per fare un progetto comune, quindi ne sono felicissima, sullo sviluppo della cultura mediterranea che è esattamente quello che ha detto Alessandro, quindi noi lavoriamo tantissimo, siamo consulenti del Ministro per l'Antichità Egiziane sui suoi due musei, quindi ci stiamo lavorando da mo', da mo'. Ci siete dentro anche voi, anche tu come con il tuo Maxi, ma adesso in qualche modo non nel piano Matteo, Alessandro Gasman, però insomma anche lei c'è in questo quadro perché diceva prima Massimo Giannini che l'immigrazione è sullo sfondo di tutto questo grande progetto. Lei è testimonial. Io sono ambasciatore e buona volontà per l'UNHCR. Che è l'agenzia ONU per i rifugiati. Ecco però aggiungo solo che Giorgio Meloni ha sempre motivato e diciamo spiegato che ci vuole una migliore cooperazione con i paesi africani anche per dare il diritto agli africani di non dover migrare, cioè di aiutiamoli a casa loro. Io penso che questo sia, se le cose dovessero essere seguite da fatti, un bellissimo inizio nel senso che chiedevo prima a Giannini, io sono il meno informato qui sui numeri delle cose, ma sarebbe la prima volta che l'Italia decide di devolvere una cifra così grande per l'aiuto sul terreno in paesi dilaniati da guerre, da cambiamenti climatici, quindi però le due cose devono andare insieme, nel senso c'è gente come l'UNHCR che ospita da mangiare un tetto sulla testa a milioni di persone che stanno in condizioni drammatiche. penso che le due cose non possono essere scisse, credo che debbano andare insieme e mi auguro da normale cittadino che sia non soltanto una promessa ma che seguano dei fatti perché sarebbe molto importante, quindi sono d'accordo. Ma gli africani emigranti devono avere il diritto a poter emigrare dove scelgono di andare o devono avere il diritto a non dover emigrare, perché diciamo questo è… Questo sembra una di quelle domande di Mazzullo, però… Eh no, però diciamo è una… Non l'ho capita, però secondo me tutti, secondo me con i mezzi ufficiali, legali, credo che a nessuno debba essere vietato di spostarsi dal suo paese. Questo è quello che… Ma è quello di Giorgia Meloni che lina è sull'immigrazione? Eh, come dice, tradotto da Gennini ha un senso, tradotto da lui ne ha un altro, è forse un po' presto per dirlo, tradotto da Gassman, io mi auguro che i danni profondi che il colonialismo ha fatto in quel meraviglioso continente che è l'Africa e che ho avuto un modo di visitare tante volte nella mia vita, possa essere in qualche maniera superato con l'aiuto vero da parte dell'Occidente, perché noi da quel continente continuiamo a prendere energia, manopera… La battaglia contro… a volte anche con toni un po' sopra le righe, che fu fatta contro il Franco Sefa, no? Cioè quando a un certo punto le destri, chiamiamole così, sulla base di una forte pressione del movimento pan-africanista cominciarono a contestare, ripeto con toni a volte esagerati, delle politiche realmente post-coloniali da parte della Francia, questo significa che il vero obiettivo è dare il diritto di scelta agli africani, il diritto di scegliere… Questo era la mia domanda, era la mia domanda, un piccolo puntino, c'è anche tutta la politica delle restituzioni, visto che stiamo parlando anche di cultura, Alessandro tu lo sai bene, tutto quello che bisogna restituire a questi paesi, la Francia è in testa con tutti i bronzi del Venino e non solo, perché aiutarli è anche restituire la loro cultura, i loro oggetti, che spesso sono anche oggetti sacri. Va bene, siamo animati tutti dalle migliori buone intenzioni, speriamo bene, Massimo Giannini chi invece non sembra essere animato dalle migliori buone intenzioni è l'Ungheria di Orban, che è un grande alleato di Giorgia Meloni, come sapete. Allora vi faccio vedere la foto di questa giovane donna italiana, Ilaria Salis, eccola qui, che oggi è in detenzione preventiva da 11 mesi, 9 dei quali in isolamento, oggi è comparsa in tribunale, la Salis si definisce una militante antifascista ed è accusata dal regime di Orban di aver aggredito due militanti di destra estrema a una manifestazione a Budapest. Il padre di Ilaria Salis ha detto stasera che la figlia è trattata come un animale e si chiede se il governo italiano non veda una violazione vergognosa dei diritti umani. In serata il ministro Tajani ha chiesto il rispetto dei diritti umani, è stato convocato l'ambasciatore ungherese a Roma, è un caso politico questo a questo punto Massimo? Rischia di esserlo, perché lo dico? Perché intanto queste immagini la dicono lunga su qual è la cultura non solo giuridica ma umana e umanitaria di quel paese e di quel capo di quel governo, Orban. questa è una negazione lampante del principio dell'Habeas Corpus, una cosa oscena che noi abbiamo vissuto anche in passato, ci ricordiamo ancora i tempi di Tangentopoli, le immagini di Carra che entra con gli schiavettoni, da quel momento in poi è cambiata almeno la nostra attenzione formale su questo tipo di cose. Però per Orban non è così, perché può diventare un caso politico? Perché scopriamo anche lì, forse noi giornalisti dovevamo essere più attenti e proattivi, ma scopriamo che adesso questo caso deflagra dopo che i genitori di Ilaria avevano già scritto al governo italiano quasi un anno fa per segnalare il caso, per sottolineare il modo barbaro nel quale questa ragazza era stata arrestata e detenuta in carcere con modalità appunto quasi disumane. Bene, è passato più di un anno e non è successo quasi niente, stasera il caso deflagra perché le immagini diventano di pubblico dominio e il ministro degli esteri convoca l'ambasciatore. Ecco, non vorrei che il tanto esecrato amichettismo che su un altro piano, parlo della politica interna, la nostra Presidente del Consiglio condanna in maniera così netta, in politica estera la spingesse ad essere un pochino troppo indulgente con il suo amico e alleato Orban, perché se questo fosse sarebbe un fatto molto grave. Comunque quello che è successo è inaccettabile. Insomma, inaudito Lucio Caracciolo... Quindi anche qui mi aspetto che la Meloni faccia, dica qualcosa. Meloni non parla mai, dica qualcosa. Lucio Caracciolo, Meloni deve dire qualcosa su questo caso perché ricordiamo che l'Ungheria di Orban è sul banco degli imputati dell'Unione Europea da molto tempo e per tante questioni di violazioni dei diritti fondamentali e dei diritti umani. Diciamo che anche la comunità LGBT in Ungheria non se la passa benissimo, tanto per citare uno dei diritti che spesso vengono messi in dubbio in quel paese. Assolutamente, hanno fatto le aree non gay, hanno fatto di tutto di più. Lucio Caracciolo, ma doveva e poteva intervenire prima il governo italiano, visto che questa giovane Ilaria Salis è detenuta da praticamente un anno? Certamente sì, poi le immagini parlano da sole. Ricordiamo che lei è accusata di avere aggredito dei neonazisti, che se è una vecchia abitudine ungherese una volta all'anno c'è questa giornata dell'onore in cui gli ammiratori delle SS si danno di gomito. Tutto questo è credo abbastanza intollerabile, però va gestito con cura, cioè da una parte bisogna mantenere l'attenzione mediatica e dall'altra parte ci vuole una diplomazia sottile. Dicono che negli ultimi tempi il governo abbia cominciato a muoversi sotto questo profilo, avendo un rapporto speciale la signora Meloni con il signor Orban, forse anche un colloquio diretto potrebbe essere utile. Comunque è chiaramente uno scandalo che deve finire il prima possibile. Ecco, un colloquio diretto Alessandro Giuli tra Giorgia Meloni e il presidente ungherese Orban, forse è il caso? Non mi sorprenderebbe se fosse già in corso, il fatto che salga... Però allora perché non ce lo dice la Presidente del Consiglio? Perché magari ci sono dei... Basta dire ci siamo parlati. Purtroppo ci sono dei precedenti anche in altre parti del mondo. Noi sappiamo benissimo che negli Stati Uniti abbiamo avuto degli italiani detenuti per lungo tempo. Adesso non vi annoio con questo, ma tanto più o meno anche degli spettatori lo sanno che ci sono dei casi di mala giustizia anche nel democratico occidente. Sottolineatura Sorban, non è un alleato e è uscito dal Partito Popolare Europeo ed è in attesa di collocazione e Meloni lo sta tenendo... Aspetta. Non è un alleato. No, attenzione. Dove sta l'alleanza? No, spiegatemi, perché le elezioni europee ci devono ancora essere. Aspettiamo di vedere che succede dopo. Intanto nel... È un conservatore europeo. No, non è entrato ancora. È in anticamera. È in anticamera, ma alle condizioni di chi se lo avesse fatto entrare un anno fa si sarebbe ritrovato dominato dagli ungheresi invece che Presidente dei conservatori riformisti europei. Quindi non è un alleato di Giorgia Meloni, secondo te. Diciamo che è sotto esame da parte dei conservatori europei e mi piace pensare che l'episodio in questione... Ma è andata non tanto tempo fa Giorgia Meloni e Avuda Pesco. I capi di Stato tendenzialmente si vedono tutti e se andate a vedere le foto opportunity troverete molti altri capi di Stato occidentali che Meloni ha detto che erano grandi amicoli. No, ma infatti confidiamo sul fatto che essendoci un rapporto diretto ci sia la possibilità di fare più che di parlare come il professor Caracciolo ci ha grosso modo fatto capire. Perché a questi livelli è molto più utile fare piuttosto che declamare senza successo. Ci ho detto che il giudizio della comunità politica su Orban, grosso modo della comunità europea su Orban è condiviso da tutti. che sia un problema e che lo sia anche in relazione all'Ucraina e che ci siano delle pressioni, che ci siano sempre delle pressioni relativamente al finanziamento e alla messa a disposizione di armi per l'Ucraina, non si può negare che l'Italia stia facendo e abbia fatto la sua parte. No, ma infatti adesso non possiamo mescolare tutto, ma diciamo è innegabile perché lo conosciamo, lo vediamo all'opera ormai da qualche anno, Orban, chi sia Orban e quali siano le sue politiche. È da quando ha battuto la statua di Gheorghi Lukacs, che era ebreo e uno dei più grandi filosofi del marxismo, come Giannini sa, che sappiamo che Orban è un tipaccio. Hai usato un eufemismo, tipaccio è un eufemismo. Va bene, ora ci serve che il tipaccio rilasci. Da normale cittadino non immaginavo che esistesse ancora quel tipo di meccanismo di catena ai piedi di portare in catena una sicura detenuta in tribunale. Tra l'altro non l'hanno denunciata quei due che lei avrebbe aggredito, non solo non l'hanno denunciata, ma sono stati in ospedale per un paio di giorni e non c'erano lesioni. E lei rischia 11 anni per questo. E lei rischia 16, forse 11 e vediamo. Se patteggia. E venire a Cristina, voglio venire a un altro tema che ha un po' acceso gli animi e che vede come protagonista il nostro ministro capotreno Lollobrigida, perché ha continuato anche lui ad attaccare avversari politici, giornalisti, e ha detto, parlando degli agricoltori, che la sinistra e alcuni giornalisti cresciuti a champagne nei loro salotti e nelle loro redazioni dove l'odore di letame non arriva. Allora, sono colorite espressioni che bisognerebbe soprassedere, bisogna prenderlo sul serio, a chi giovano. Ma io non conosco ovviamente il ministro Lollobrigida, però gli posso portare un esempio così su Flass. Carlin Petrini, che credo sia il più grande cantore dell'originalità, della natura, dei raccolti, del cibo italiano, del bio, e tutte queste cose, non credo che sia proprio uno che viva a champagne, sta immerso nelle sue campagne del cuneese, con le sue mucche, quello, insomma, fa questi meravigliosi saloni del gusto dove l'italianità viene portata a sinergia totale di un processo meraviglioso, fa venire tutti gli agricoltori piccoli produttori di cipolle del Perù, piuttosto che a Torino ogni volta in Italia, io credo che champagne, no, forse una buona barbera magari, non lo so. Cioè, oh, che ne so, un prosecco, non so se le buonicine italiane, le avversari, i giornalisti possono, possiamo, abbiamo una barbera, è buonissima. No, vabbè, però, Giannini... Io per l'altro trovo l'odore dell'etame gradibile, lo trovo gradibile da sempre. E come diceva Di Andrè, dall'etame nascono i fiori. Ecco, ma è... Adesso ci dobbiamo citare Rino Formica, Giannini. Ah, prego. Che cos'è la politica? Eh, sangue e merda, ecco, scusate la parola. Un attimo, prendiamo sul serio, è un ministro della Repubblica, gli attacchi, questo attacco viene dopo vari attacchi diretti della Presidente del Consiglio, Meloni e di altri esponenti della destra-destra, quindi, insomma, c'è qualche cosa di più al di là di tre battute che possiamo fare noi. No, io ti ringrazio, Lilli, perché io sono tra quelli... No, tu sei molto attaccato... Esattamente, ecco, diciamo che se parliamo di letame, io in questo weekend me ne sono preso qualche tonnellata, ma sono sereno e vivo bene lo stesso. Io però non riesco a banalizzare su questa cosa, no? Potremmo ironizzare per un'ora, parlare del cognato d'Italia, perché ci ha regalato delle perle in questo anno e mezzo, formidabili, non soltanto il treno fermato a Ciampino. Però, come hai detto tu, questo attacco, lo dico anche a Evelina, che prima citava Carlin Petrini, non ce l'aveva con Carlin Petrini, Lollobrigida ce l'ha con i giornalisti, come ce l'ha la sua Presidente del Consiglio, che da quel momento in poi ha attaccato a testa bassa chi non fa l'informazione che piace a loro. Questo è il vero problema, no? Allora, che dopo quattro giorni l'esplosione del caso Meloni-Repubblica, questo signor Ministro andandosene allo stadio allegramente, prima di andare allo stadio, fa questo post dove infanga in questo modo una categoria, dimostra da un lato di non sapere cos'è la realtà dei giornalisti di oggi. Vorrei dire al Ministro Lollobrigida che ci sono nelle nostre redazioni giornalisti che si fanno, scusate la franchezza, un mazzo così e prendono 5 euro ad articolo. Quelli non bevono champagne, non bevono champagne, ma più in generale è insopportabile, tu Alessandro che sei una persona seria e di cultura, spiegalo agli maggior tuoi, se ci fanno la cortesia di smetterla di usare questa categoria, corriva e insopportabile dei radical chic, riferiti ai giornalisti che criticano e dunque bevono champagne e non toccano il letame. E' una roba vergognosa, ma neanche, ripeto, neanche nel ventennio i ministri della propaganda usavano questo modo di parlare. Beh, si usava iene da posso replicare. Quindi basta, deve chiedere scusa, Lollobrigida si deve scusare con i giornalisti, si deve scusare con i giornalisti e non dovremmo ironizzarci, non lo dico noi qui stasera, non si deve banalizzare su questa roba, non ha attaccato tutta la categoria, infatti ha attaccato solo chi lo critica, cioè noi sostanzialmente. Allora, ripeto, dalle iene dattilografie di D'Alema, tanto per fare una citazione, il mondo politico è costellato di rapporti di tensione. Io ritengo, ma seriamente, che quello di Lollobrigida, del ministro Lollobrigida sia stato un grande esercizio di sindacalismo agrario, perché lui era esattamente, no, un esercizio polemico, mica lo sto riducendo. Ce l'abbiamo tutti a cuore, le ragioni degli agricoltori. No, no, lui sapeva benissimo che in quel momento si stava facendo interprete di una protesta che è in atto, che è in atto ed è anche in modo molto cruento e che sta portando a un conflitto con la Col di Retti, tra l'altro c'è con la più grande rappresentanza del mondo agricolo e in quel momento ha sicuramente usato dei toni stellari, diciamo così. E c'è la scarica su di noi quella protesta? Si è fatto interprete di una protesta rispetto a un ceto giornalistico non tutto che a volte, se non spesso, attacca i politici di destra macchiettizzandoli dall'atto di un suprematismo antropologico che certo l'agricoltore non sopporta, ma in quel caso rappresentava una categoria. Si macchiettizzano da soli molto spesso. Tutti i politici hanno il momento in cui vanno incontro. Il momento l'olopologico che noi ce l'abbiamo, sai quante volte ce l'attivizziamo? Il problema è la Meloni che ha parlato quattro giorni prima di lui, capisci? E' questo il problema, è la sequenza che inquieta, è la sequenza, perché non è una battuta uscita fuori così all'improvviso. Arriva quattro giorni dopo che la Meloni ha fatto un attacco frontale e che tutti i giornali della destra nel weekend hanno richiamato l'attacco. Posso distingere i giornalisti dalla proprietà, però... Aspetta un attimo, scusami, è un po' diverso. No, ma io dalla proprietà non mi interessa niente. No, io sì, però... Posso chiedere? Non era un attacco ai giornalisti, ma era un attacco alla proprietà, di cui Repubblica è chiaramente espressione. Era un attacco ai giornalisti per interposto editore. Ma no, ma... No, era un attacco all'editore per interposto editore. Alessandro Giulia, dai, sono stata attaccata anch'io che non c'entra con la proprietà Repubblica e altri giornalisti. E che per lavoro ogni tanto faccio la macchietta, perché mi pagano proprio anche per fare quello. Faccio il drammatico, il medio, il serio. La sensazione di uno come me, che non ha a che fare con la politica, che però segue le vicende del Paese, è che ci sia una media di toni utilizzati sia da una parte che dall'altra che secondo me sono andati ben oltre. Sarebbe bello che il Paese riuscisse da tutte le parti, a partire da chi fa politica, perché ha responsabilità maggiori, di ridurre il tono delle parole e tornare magari ad un utilizzo della lingua italiana che sia consono a una delle più belle lingue del mondo, di cui l'olobrigida non ha proprio una capacità di estensione di vocabolario così grande, secondo me. Potrebbe migliorare nella raffinatezza di quello che dice e risultare meno cruel. Gli fa studiare l'inglese. Intanto deve studiare anche l'inglese. Se non essere l'italiano sarebbe ancora meglio. Dovevate prenderlo seriamente e lo stavate direttando di nuovo. Allora, scusa, Lucio Caracciolo, non bisogna banalizzare, come dice Giannini, c'è un problema col giornalismo critico, assistiamo, non è la prima volta che, come ricordava Giulia, assistiamo al potere che attacca i giornalisti critici, però insomma diciamo che questi ultimi mesi ne abbiamo visti abbastanza su questo fronte, no? Ma direi che soprattutto ne abbiamo vista poca di politica, cioè noi continuiamo a parlare di queste espressioni teatrali molto discutibili, ma non si entra mai nel merito di qualche questione seria e io temo che parlare in questo modo non sia semplicemente una questione di estensione linguistica, ma sia una scelta. È una scelta di chi evidentemente non sa esattamente quello che sta facendo o vuole fare e parla d'altro. Forse anche un contributo che i giornalisti, noi giornalisti potremmo dare è quello di riportare i politici al loro mestiere, perché altrimenti facciamo tutti quello che fa brillantemente Alessandro Gassman, però in maniera molto meno brillante. Ah sì, questo sicuro. Vi faccio vedere il punto di Paolo Pagliaro, che ci riporta al grande tema, alla grande preoccupazione dell'inflazione. Guardate. Una volta all'anno Banca d'Italia e Istat pubblicano sui rispettivi siti web un rapporto sulla ricchezza reale e finanziaria del Paese. Lo hanno fatto oggi e tra le molte notizie la principale è che l'inflazione si è divorata una fetta consistente, cioè il 12,5% della ricchezza delle famiglie. Secondo i dati aggiornati a fine 2022, la ricchezza netta è scesa anche in rapporto al reddito lordo disponibile e è accaduto in diverse economie avanzate, ma solo in Italia si è tornati ai livelli del 2005. A perdere appeal è anche il mercato azionario, in calo dopo tre anni di crescita. Le famiglie hanno riportato perdite derivanti principalmente dalla svalutazione di riserve assicurative, quote di fondi comuni, azioni e titoli. È drasticamente diminuita la crescita dei depositi, ma si è ridotto l'indebitamento delle imprese, che ora ammonta al 49% delle attività reali un dato in linea con quello di altri Paesi. L'emorragia nei bilanci delle famiglie è stata parzialmente tamponata grazie all'accresciuto valore delle abitazioni e più in generale delle attività non finanziarie. Il valore delle case è aumentato in un anno del 2,4%, grazie a quella che la Banca d'Italia definisce una vivace attività di compravendita e grazie anche al rinnovamento edilizio incentivato dal governo. Un postumo riconoscimento per il bistrattato super bonus. Siamo in chiusura, grazie Alessandro Gasman e ricordo che da domani al terattro Quirino di Roma... Quirino Vittorio Gasman, c'è un mio spettacolo che amo moltissimo, tratto da Franz Kafka, sono due racconti che ho uniti, si intitola racconti disumani della storia di una scimmia che è diventata uomo evolvendosi e la storia di un uomo che è diventato una talpa impaurendesi del mondo che l'ha circondato, il protagonista è Giorgio Pasotti ed è uno spettacolo che consiglio a tutti, perché Kafka è un grande genio del Novecento ed vale sempre la pena ascoltarlo. È un grande conoscitore dell'animo umano, quindi da domani al teatro Quirino di Roma racconti disumani. Grazie Massimo Giannini, grazie Evelina Cristillen, grazie Alessandro Giulie, grazie Lucio Caraccio, lo ricordo, l'ultimo numero di Limes, Svizzera, la potenza nascosta e ricordo che anche che la scuola di Limes, state diretta, ha riaperto da una settimana le iscrizioni. E adesso state con noi perché c'è Corrado Augias con la sua torre di Babele dal titolo La Costituzione. Noi ci vediamo come sempre domani, 8 e mezzo. Arrivederci.